Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Questo è un video diverso dal solito perché vogliamo apportare un cambiamento, per i motivi che poi vi dirò, un cambiamento momentaneo, alla nostra rubrica della domenica, domenica ludica, che vogliamo trasformare in un appuntamento comune tutte le domeniche, quindi non vi preoccupate, ci sarà tutte le domeniche, senza più saltarne una, a differenza di prima, quindi con cadenza regolare, una settimana tutte le domeniche, però che si trasforma per ora in un video e non è più una live. Ovvio, la live c'era più interazione fra noi e voi, è ovviamente una cosa che vogliamo riprendere in futuro, ma al momento preferiamo trasformarlo in un video. Nel frattempo anche qui vedete un po' di roba cambiata, qui dietro non c'è più il mobiletto con tutti i colori, perché l'abbiamo trasferita piano di sotto, perché il motivo per cui trasformiamo per ora, ripeto solo per ora, questa rubrica in dei video è perché, punto 1 ragazzi, è troppo caldo qui su. Vi giuro, troppo troppo caldo, siamo agli inizi di giugno e già non ci si sta più, quindi io fortunatamente mi sono portato avanti, e mia moglie siamo portati avanti con il lavoro, e abbiamo video caricati, un video ogni due giorni, più questo della domenica ludica che faremo come appuntamento fisso, fino ad ottobre. Quindi fino ad ottobre noi abbiamo video caricati sul canale, punto numero 1. E il secondo motivo è perché, avendo apportato delle modifiche drastiche al canale, avendoli cambiato, ormai sono due anni e passa, e comunque, avendoli cambiato completamente tema, cerchiamo di rifarci prima un pubblico. Non vuol dire che bisogna essere live con 400 persone, come ai tempi di videogiochi di Ark, non me ne frega niente, possiamo anche essere 50, 40, 20, uguale. Però comunque vedere un pochino più di partecipazione, ma soprattutto vedere un pochino più di pubblico fidelizzato, che vengono per i board game. Però preferiamo un attimino prima fidelizzarvi ancora di più, farci un altro pochino più di pubblico, prima di riprendere live. Non è un fatto di numeri, è un fatto appunto di pubblico, un pochino più coinvolto nel discorso che andiamo a trattare. Primo argomento, la stampa 3D. Stiamo lavorando dietro da ormai un mese abbondante, forse anche qualche usina di più, ed è stato un punto positivo e un punto negativo. Come vabbè, ma come tutte le cose nella vita, no? Io peggio, non ci sei niente di strano, non c'è nosa, soltanto spettacolare e bellissima, c'ha sempre qualsiasi cosa a un lato oscuro. E la parte bella della stampante 3D, ovvero la storia della stampa 3D, che ci poterà fuori tutti quanti i tuoi sogni. La parte brutta, forse, è che leggermente il piatto di quelle a resine è piccolo, però a noi non ci ha toccato, perché tanto noi non vogliamo stampare cose alte così, ma miniature in scala per giochi tipo Rammer della GV, e quindi va bene di quella dimensione lì il piatto. Più che altro, è tanto lavoro e tempo che ti porta via per due motivi principali. Uno, perché c'è da starci, ci stai più tempo a progettare tutti i supporti per una stampa, ci stai davvero 4 ore, magari 2 ore di stampa, e 4 ore di lavorazione, e poi ci mette veramente tanto tempo a stampare qualcosa, che non è un problema, perché se te non è che stai lì a guardarla così, la stampante 3D, mi viene sempre a guardarla perché è laggiù, te ovviamente la lasci lì, c'è chi la lascia accesa di notte, o chi magari mentre lavora. Però, se la stampa ti richiede 5-6 ore, lascia andare e non c'è problema. Ci sta tanto, perché quando hai bisogno di fare qualcosa, soprattutto magari dopo 6 ore, su 8, su 10, ti fallisce la stampa, non falliscono più, grazie a Dio che mia moglie è diventata particolarmente spetta, anche perché dopo tanti fallimenti, ha capito dov'era l'errore, se andava per esclusione. Però comunque ci vuole tanto tempo, e quindi stiamo stampando tante cose, vogliamo portarvi Pimper My Board Game, come già detto e tutto quanto, però ci vuole veramente tanto tempo. E poi il piatto, essendo piccolo, non è che possiamo stampare tutte le cose che ci servono in 6 ore, ma magari in 4 piatti differenti, quindi ci vogliono 6x4, cioè la stampante deve lavorare un giorno intero. E quindi forse quella è la cosa un po' più negativa, ma pensando che le stampanti a filamento sono anche decisamente più lente, e molto più lente, ci è andata anche bene con la resina, e quindi diciamo tutto sommato, siamo molto contenti di questo inizio di esperienza con le stampanti in 3D a resina. Parlando di nuovi progetti, e cose che vogliamo portare sul canale, ci sono ovviamente tante cose legate, come vi ho detto, alla stampante 3D, che la vogliamo inserire come appuntamento fisso, ma visto che trattiamo di giochi da tavolo, di board game, è perfetta veramente per mettercelo, e soprattutto anche i board game, quindi comunque la vogliamo inserire veramente al 50% nel canale, cioè girarci sempre intorno anche quando trattiamo di board game. Di questi progetti ho un progetto mio, di cui, vabbè, nostro, praticamente del canale mio e di mia moglie, di cui per scaramanzia non ne vogliamo parlare, ma anche perché non è ancora solidificato, cioè bisogna pensarla ancora bene prima di tirarla appunto fuori, bisogna vedere, è inutile dire una cosa per un'altra, e poi magari il progetto viene cambiato. Comunque, da parte mia voglio farci più pimp ma board game, da parte di mia moglie invece ci vuole tirare fuori più una professione, vuole che diventi il suo lavoro, infatti lei ultimamente, a parte da Minaman, insomma con le miniature e tutte le cose del canale, come sempre, si sta dedicando anime e corpo a questo, ma non soltanto a questo, anche appunto, come vi dicevo inizialmente, alla progettazione del file da stampare, prima di buttarlo in stampa, supporti e quant'altro. Altra cosa che vorrei fare sul canale, vorrei portare molto, molto, molto di più i giochi di ruolo, perché inizia a avercene veramente tanti, ora anche la Fria Ligan mi dovrebbe mandare dei nuovi manuali, ci sono dei nuovi manuali in uscita con la Weird Edizione, che tra l'altro colgo l'occasione per salutarli, e quindi ce n'ho tanti giochi di ruolo, come ultime cose che mi hanno mandato gli editori, un gioco che ho richiesto molto alla Giochi Uniti, edizione originale della Fantasy Flight Games, che io ringrazio da morire alla Giochi Uniti, per avermi offerto una copia di recensione, grazie veramente per avermelo mandato, anche perché era un po' di tempo che glielo stavo chiedendo, mi hanno mandato Rogue Trader, che è, se non erro, il terzo gioco, questa è la prima edizione ovviamente, comunque il terzo gioco, in ambientazione Warhammer 40 mira, perché il primo era Dark Eresy, in cui giocavate ovviamente un opzionico, o un inquisitore dell'impero, poi fecero una versione che si chiamava Death Guard, che ovviamente eravate uno Space Marine, una Startes, facente parte appunto della Death Guard, e questo che è il mio preferito, siete un Rogue Trader, un mercante Corsaro, quelli che praticamente, poi ci voglio anche fare un video di lore, soprattutto quando ci farò la recensione a breve, sono coloro che ricevono una lettera di via da parte dell'impero, si dice che la prima l'abbia scritta e varata all'imperatore stesso quando era ancora in vita, e sono dei Corsari, sono degli esploratori imperiali, e quindi è molto bello, perché è un gioco di esplorazione che ricorda molto da vicino Alien, e tra l'altro è il primo gioco di cui ci voglio fare una partita GDR, appunto da registrare per il canale. E seconda cosa che mi è stata mandata, ragazzi, rullo di tamburi perché veramente non ci speravo più, mi è stato mandato il prototipo, e ripeto ancora una volta, il prototipo, perché già qualcuno mi ha detto come fai da averlo, che io ho fatto il baker, ho finanziato il Kickstarter, non ce l'ho ancora, gioco che uscirà nel 2021, il board game ufficiale di Wolfenstein, con in copertina, vedete il bellissimo Blaskovic, che è il mio eroe dei giochi sparatute in soggettiva, e ve lo farò vedere per bene, perché è un gioco che rispecchia, secondo me, più di tutti il vero spirito di Wolfenstein, perché lo spirito di Wolfenstein non è tanto il fatto di ammazzare tutti, perché Wolfenstein non è Doom, sì, lo puoi anche giocare tranquillamente, a parte che i nemici fanno molti più danni, correndo, ammazzando, tirando coltellate, ma Wolfenstein è nato come gioco, non il primo Wolfenstein 3D, ma Return to Castle Wolfenstein, è nato come un gioco stealth, quindi in questo gioco rispeccato molto bene, sì, siete forti, siete Blaskovic e le sue figlie, e tutto quanto, però non dovete fare una straccia, anche perché inizieranno a partire gli allarmi, e mano a mano che partiranno gli allarmi, come in altri giochi molto simili a questo, Dungeon Crawler, arriveranno sempre più nemici, quindi dovete ammazzarli, sì, liberare, fare la missione, ma è più un gioco stealth, poi ovvio, quando si arriva a sparare, si spara, però la sua vera e propria potenza, lo dà nel gioco stealth, e non vedo l'ora di farvici, sia la recensione, bello, mi guarda, mi guarda morì, vi giuro, quando mi è arrivato aperto il pacco, ciò vola le setole, cioè le scaglie del drago, più che la pelle d'oca, e non vedo l'ora di farvi c'è la recensione, e anche dei gameplay, caldo permettendo. Per quanto riguardano le pitture sul canale, e anche gli speed painting, vogliamo tornare appunto a rifarli, perché anche, ci siamo presi una pausetta, sempre per il fatto che, vedete, qui dietro non c'è più la roba, l'abbiamo spostata tutta quanta per portarla giù, e quindi anche bisogna un attimino, ragazzi, quello che ci frega a noi, ora come ora è il caldo, e il caldo troppo, troppo affoso, ma soprattutto umido, non fa bene per niente alle pitture, quindi abbiamo dovuto travasare tutto, dal soppalco, a giù alla camera, e bisogna trovare anche un posto abbastanza ventilato, per non schiantarci dal cardo, e per continuare a dipingere, comunque, mia moglie, che ora qui, poi, tanto ve lo farò vedere per bene da vicino, c'è qualcosa che ha dipinto, veramente spettacolare, ma ve lo faremo vedere meglio, in un prossimo video, appunto, dedicato agli speed painting, quindi gli speed painting, che già ce ne abbiamo un po' programmati per il canale, sia nostri, che del nostro amico, e collaboratore Pippo, però, ne vedrete anche molti di più, perché mia moglie, ovviamente, anche andandosi a ricollegare, come dico sempre, alla stampante 3D, una volta che stampi qualcosa di bello, lo devi per forza dipingere, per farlo vedere al meglio, e per presentarlo al meglio, quindi, comunque, vi faremo vedere anche tanti nuovi speed painting. Concludendo, ragazzi, d'ora in avanti, tutte le domeniche, sempre alle 7, questo video qui sarà un appuntamento fisso, e lo porteremo avanti anche come numerazione, quindi, domenica ludica, non mi ricordo se sarà la dodicesima, la trondicesima, qualcosa del genere, sempre con la stessa copertina, il tema trattato, i temi trattati, e tutto quanto, io spero di riprenderla, appena finisce il cardo, quindi, comunque, la rivolgo a prendere come live, non voglio che diventi un video, voglio che siano delle live, e la voglio riprendere come live, verso settembre, ottobre, quando farà un pochino meno caldo, e magari ve l'ho detto, quando avremo fidelizzato, un pochino di più il pubblico. Ragazzi, in conclusione, questo era appunto il primo video, dedicato a questo, per ora, momentaneo cambio di format, vi auguro buona domenica sera, e ci vediamo a domenica prossima. Ciao ragazzi!